mamma che grafica ragazzi mi sembra di stare al paleolitico ciao Daniele chi è questo? no però tu ti devi vedere non è che metti solo a me come webcam buonasera Ivan buonasera buonasera Daniele buonasera ai nostri spettatori fammi salutare Federico hello JRT perché sono molto contento di vederlo in chat ciao Fede ben trovato aspetta ancora in chat non è più in chat è scappato visto che c'eri tu e è andato via ma veramente è venuto apposta che c'ero io non per dire ha letto podcast fiore giustamente allora togliamo il nome podcast fiore mettiamo intervisto tizio buonasera allora io voglio chiedere alla chat magari facciamo un sondaggio chiedo ai miei colleghi moderatori si deve mostrare in faccia Daniele oppure no qualcuno faccia il sondaggio non si può fare devo avere le sub allora scrivete in chat se lo volete oppure no no ma no guarda ma no ma no tizio tizio non esce tizio comunque se volete vi posso mostrare lo sfondo del computer che è più bello di me ma no ma tu sei bellissimo Daniele aspetta che lo aspetta eh no aspetta sapete cosa vi mostro? tra l'altro Dani stiamo aspettando pure che arrivi Massimo Jack Leone perché lui anche vuole fare tante domande a me al sottoscritto qua in che senso arriva? eh arriverà Jack Leone in chat vuole fare tante domande è lo sfondo del mio computer è bello vero questo? bello bello sì ma rappresenta qualcuno questo sfondo nel tuo immaginario? no? così mi piace disegnare perché fai gli SEO? non c'è Jack ma c'è Jack? se c'è Jack? no non c'è Jack no bravo fallo bravo bravo Jack giocava a Rocket League ah no retro ho letto Rocket League vabbè Ivan buonasera come sta? sto bene sto bene perché sto lavorando tanto no perché ci sono io perché ci sono io eh sto bene perché tra l'altro non vedevo l'ora ti dico la verità perché delle volte con le interviste ma non è che uno è sempre contento di farle perché un po' si annoia sempre le stesse cose eccetera invece stasera sono felicissimo di stare qua con te perché devi sapere una cosa Daniele che mai nessuno mi aveva intervistato prima di questo momento avendo così tanti anni in meno rispetto a me tu ne hai non lo diciamo io ne ho 25 quindi diciamo che è una prima volta per me e credo che sia una prima volta anche per te per intervistare una persona come me ma è la seconda volta che hai intervisto sì però una persona che fa il mio lavoro secondo me non l'hai mai intervistata prima e che lavoro fai il Pirla? che lavoro fai? mamma mia ma vi rendete conto di chi mi sta intervistando qua? no io mi sto intervistando chi mi sta intervistando? Giampippo guarda Daniele divulgazione cioè trasferire informazioni ad altre persone questo ah sei un messaggero quell'uccellino una specie di messaggero esatto perché il messaggero cosa fa? porta un messaggio a delle persone che quel messaggio ancora non ce l'hanno io prendo un messaggio che è riservato a piccolissimi gruppi lo trascrivo lo traduco in un'altra lingua e poi lo porto a più persone possibile esattamente lo traduce anche in spagnolo o tedesco? no lo traduco in italiano perché se anche quelle piccole persone scrivono in italiano scrivono in un italiano che è comprensibile solo per loro non lo capisce nessuno quindi bisogna che qualcuno lo scriva in un linguaggio comprensibile a tutti il linguaggio che parliamo quando durante la nostra vita quotidiana insomma allora quando posso cominciare a fare le domande mi dica lei io io sono a disposizione sua e della sua chat qua comanda lei comandate voi addirittura tu sei il moderatore quindi volendo puoi anche bannare no per stasera non sono moderatore ragazzi sono solo un ospite quindi fate quello che volete come fate quello che volete così la chat però mi impazzisce dicono fate quello che volete ma non sono l'unico moderatore qua quindi per una volta che facciano il loro lavoro pure gli altri diciamolo fatelo lavorare però raga fate lavorare Ivan Ivan io volendo posso cambiarti anche il nome io si autentica autenticazione effettuata con YouTube ma ma signore ma perché devi sapere che io le primissime dirette non le facevo su Twitch prima ancora che nascesse Podcast Fiore ti sto portando che nascessi mi sa che nasce ah 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 ma facevo delle rubriche su YouTube in diretta utilizzavo StreamYard che brutto che brutto quel quadro dietro di lei ma quel quadro è il nostro sponsor tu lo sai non lo posso togliere da là perché io ricevo dei soldi ah ti paga il divano ti paga il divano è il tuo sponsor hai capito non è che lo facciamo che ti paga chi ti paga è l'artista che l'ha fatto è un mio amico che si chiama Alan Petris ciao Alan un abbraccio facciamolo shootout Alan facciamolo shootout c'ha un account però se l'è fatto apposta per seguirmi in realtà non lo usa come per seguirmi in questa settimana no raga è bruttissimo si è fatto un account per seguire io sto parlando delle sponsorizzazioni in questa settimana io dico che ha fatto ha fatto bruttissimo il senso iscriversi su Twitch per vedere questo idiota mamma mia che bella questa intervista ancora devi cominciare già sono proprio contento già ti ho risultato abbastanza possiamo cominciare o ti voglio ancora risultare no ma fai tu gestisci tu Daniele sei tu il conduttore per stasera il conduttore e tu sei l'ospite io sono l'ospite allora partiamo già a dire che questa intervista chi è che l'ha decisa? ah hai fatto tutto tu Daniele non è che me l'ha imposta praticamente quindi ho detto sì perché io sono suo moderatore no quindi chiaramente lui il capo e quindi sto ribaltando ok avevo ribaltato tutto buonasera Gerry Scott nuovo conduttore vabbè io comunque lascio aspetta un attimo così lo lascio fissato questo messaggio aspetta che Ivan Traum da 10 secondi iniziamo allora prima di tutto Ivan come si chiama? vabbè Ivan mi chiamo Ivan e beh ah l'hai tolto il nome ah perché non l'ho fatto ah perché forse mettendo il messaggio in evidenza si tolga il nome vabbè lo diciamo non ha importanza Ivan Fiorillo molto semplice detto Fiore come diminutivo una prima cosa ma perché il canale si è chiamato Podcast Fiore perché Fiore è da da qualche anno una sorta di diminutivo no aspetta grazie per i follow Fabiteo grazie per i follow eh Fabiana la conosciamo bene la conosci pure tu Daniele era era ragazza e quindi alcuni miei amici hanno iniziato a chiamarmi Fiore no qualche qualche tempo fa no no aspetta aspetta non tri no Daniele tu mi fai la domanda poi mi interrompo ogni due secondi qua non arriviamo da nessuna parte vai vai e quando poi ho voluto cominciare il mio podcast che voleva raccontare e racconta il dietro le quinte della divulgazione scientifica che non fa nessun altro in Italia me lo sono inventato io questo mestiere praticamente volevo unire sia il podcast per far capire appunto che faccio podcast e sia il mio nome cioè il mio progetto doveva portare il mio nome all'interno del suo nome Fiore e poi ho pensato una cosa cerchiamo di trovare un motivetto che sia facilmente memorizzabile dalle persone magari un motivetto che già esiste e allora con Fiore mi è venuta in mente la canzoncina ci vuole un fiore e per metterci la parolina podcast in modo tale da far ricordare podcast Fiore allora ho pensato per fare un podcast ci vuole un fiore uno si ricorda questa frase e poi si ricorda anche come si chiama il mio canale il mio podcast Podcast Fiore allora ma tu per hai rubato una canzone oppure hai rubato una canzone ladro rubato no assolutamente ho semplicemente modificato quella parola che è diventato il claim cioè lo slogan del mio canale per far capire appunto che per fare un podcast ci vuole un fiore e capite quindi è nato da lì ma assolutamente non ho rubato nulla infatti non ne faccio uso di quella canzone da nessuna parte salutiamo anche Fabiana salutiamo assolutamente la salutiamo Fabiana pure tu hai delle domande tutti voi che avete delle domande da fare scrivetele nella chat per fare un fiore per fare un fiore ci vuole un seme beh per fare un fiore ci vuole un seme vabbè allora ciao Fabiana buonasera ciao ciao Ale per fare un seme ci vuole una me leggi ma c'ha ragione hanno tutti ragione hanno allora cosa ti vuoi dire mi sono dimenticato ah vedete il signor Daniele non si è scritto la domanda quindi cerca di ricordarsela a memoria è scomparso Ivan no io ci sono tu dove sei ok ok e io non ci sono cucciolino Daniele mi fanno morire delle listate che voglia tipo no io e Ivan ci vogliamo bene vero io e Ivan ci vogliamo bene tantissimo tanto vero che ti voglio bene io so che io ti voglio bene però spero pure tu però penso di sì Daniele Daniele come ti fanno una domanda la regia fammela pure tu allora il signor Michael dice come fai a portare avanti la tua attività come fai e però in che senso in che senso Michael oh buonasera Diamond come sta buonasera allora mentre Daniele fammi sapere se Michael risponde alla mia domanda all'interno della chat così capisco meglio come rispondere però nel frattempo ti dico che è tutta una questione di programmazione no e quindi io mi progetto assolutamente tutte le giornate ho tantissimi impegni che devo incastrare gli uni con gli altri insieme allo sport naturalmente insieme alla socialità e ad altre cose e quindi in questa maniera avendo una programmazione alle spalle di settimana in settimana ogni settimana è diversa dall'altra ogni giorno è diverso dall'altro alla fine riesco a fare tutto quello che devo fare riesco a portare avanti quindi le mie attività per il master che sto seguendo per le mie attività eccetera e riesco a portare avanti anche questo progetto sulla rete che tra l'altro sto scrivendo anche sto riportando all'interno di un documento universitario che sarà il progetto che concluderà il mio master per far sapere alle persone quello che è stato fino a questo momento Podcast Fiore in un anno perché tra un po' festeggeremo un anno appunto di attività sulla rete allora il signor Michael intendeva come fai a fare live ogni giorno come fai come fai avere tempo perché me lo sono creato questo tempo quindi considera che per quanto riguarda le uscite l'ho dovuto chiaramente ridurre tantissimo ho dovuto ridurre il fatto di vedere delle persone eccetera eccetera e nel planning quindi settimanale mensile ho dovuto riservare appositamente dei momenti proprio per per le persone care ecco diciamo in questa maniera e ho cercato quindi di far combaciare per bene i tempi io so che ogni giorno lunedì venerdì 18 20 devo condurre delle puntate qua in diretta su Twitch e so che lo devo fare poi mi devo riservare del tempo per preparare queste puntate che sono tutte programmate una programmazione io che è mensile di mese in mese quindi questa è un'altra cosa che mi aiuta so già tra un mese di che cosa parlerò nel dettaglio e quindi non mi faccio trovare alla sprovvista c'è una grande preparazione quindi dietro e tutto il resto quindi lo faccio in ogni ora da quando mi alzo alle 7 fino a quando vado a dormire alle 11 non c'è un minuto in cui io non sia impegnato in qualcosa quindi non perdo mai assolutamente tempo e ne sento il bisogno di dover perdere tempo perché so che ho tante cose da fare mi piace quello che faccio e quindi in questa maniera riesco a fare tutto alla fine è come se avessi almeno 25 ore al giorno piuttosto che 24 e vi dico che per esperienza personale tanti altri invece che conosco è come se ne avessero 15, 16 piuttosto che 24 quindi utilizzano molte meno rispetto a quelle che hanno a disposizione si può fare tante cose anche in un solo giorno allora una domanda che ti volevo fare io ma allora ma da cosa è nata sta passione come sei nato su Twitch come hai fatto a scoprire questa piattaforma il mio progetto è nato al di là della piattaforma cioè io sono arrivato a un punto in cui a fine 2020 inizio 2021 volevo mi era venuto in mente di raccontare il mestiere del divulgatore dal dietro le quinte perché tutti noi usufruiamo dei programmi televisivi dei libri di dirette dove si parla di cultura eccetera ma nessuno mi racconta come si preparano queste cose quindi da un punto di vista pratico come si arriva al prodotto finale è un qualcosa che secondo me doveva essere raccontato per far partecipare gli spettatori finali del processo che portava quindi a un certo risultato anche perché questa consapevolezza ci permette di capire come nascono i vari prodotti e quanto lavoro c'è dietro quanto lavoro c'è di verifica delle fonti di studio di collaborazione con professionisti eccetera eccetera qualcosa molto interessante ecco piuttosto che focalizzarsi sul contenuto sul programma televisivo sul libro il contenuto del libro può diventare contenuto anche la preparazione stessa di questi prodotti mediatici e quindi questa era la mia idea poi l'ho strutturata mano a mano grazie a a un grandissimo professionista pensa che è un una star del web ma che lavora anche lui dietro le quinte infatti non è conosciuto da tante persone ma è colui che ha portato il mondo del podcasting in una maniera importante proprio in Italia ed è il filosofo esecutivo Raffaele Tovazzi che voi andate sul mio canale Twitch il trailer è proprio il momento in cui io ho presentato ufficialmente il mio programma la mia trasmissione in diretta sul suo podcast che teneva all'epoca su Twitch quindi poi insieme a lui abbiamo capito proprio là in diretta una puntata che tra l'altro trovate sul mio canale YouTube integralmente che sarebbe stato bene farlo su Twitch per fare appunto delle dirette contemporaneamente fare un podcast dove in 30 minuti ogni settimana ti parlo di un mio di una mia esperienza passata appunto di divulgazione raccontandone il backstage e poi ho pensato alla newsletter eccetera tutto questo l'ho preparato però prima di sbarcare sulla piattaforma di Twitch quindi prima mi sono fatto un bel progetto che parlava di Podcast Fiore dopodiché ho deciso il momento in cui cominciare e quando ho cominciato il 15 marzo del 2021 ho cominciato già con tutte le forme già pronte del progetto e quindi non ho fatto altro che portarla avanti e poi nel corso del tempo siccome il programma cambia sempre in continuazione ci sono sempre delle cose nuove si sono sempre giunti dei pezzi la parodia Fiore Kids eccetera alla fine siamo arrivati a quello che siamo adesso dei gran coglioni posso dirlo allora la mia domanda è una domanda che ho sul punto della lingua da giorni ma faccio bassa voce che mi arrivano i petardi da cosa è nato Fiore Kids però racconta la storia dei petardi se no non capisce la gente i petardi allora che sono delle robine piccoline che si lanciano per quando a fine anno aspetta quando inizia l'anno nuovo e io le lancio Ivan andavano mi spiego anche meglio perché siccome questa questa che vedete qua è la casa della conoscenza fate sento che non ci sia il quadro di zucchero perché là dietro c'è una piattaforma che si chiama il tavolo delle meraviglie e che non mostro mai su Twitch ma mostro solo su Fiore Kids appunto del quale adesso vi parlo quindi lui per scherzare siccome all'inizio non gli piaceva questo Fiore Kids o perlomeno così diceva allora voleva lanciare le bombe nella casa della conoscenza per far finire appunto questo nostro programma allora è nato all'inizio della seconda serie di Podcast Fiore e la seconda serie è cominciata tra nel mese di settembre dello scorso anno ed è andata e proseguita fino a Natale adesso invece siamo nella terza perché siamo appunto cominciata da gennaio e si concluderà nel mese di maggio ed è nato questo Fiore Kids da una persona un signore che mi ha fatto un'intervista su una piattaforma di informazione un canale di informazione e in quell'intervista presentavo il mio libro l'acqua e blu ma non a scuola dopo quell'intervista il creatore di questa piattaforma mi ha contattato mi aveva contattato pure prima e siccome si è molto appassionato delle cose che facevo la trasmissione il libro eccetera eccetera allora mi ha proposto di diventare proprio un collaboratore di quella piattaforma è una piattaforma non solo di informazione ma anche per content creator che vengono appunto invitati da lui e quindi si dà la possibilità a questi creatori di ospitare i propri contenuti anche all'interno di quella piattaforma quando mi ha proposto questa possibilità sono stato naturalmente molto contento però ancora non sapevo che cosa portare siccome era una piattaforma in più dove sbarcare non volevo pubblicare dei contenuti dei quali già mi occupavo prima perché altrimenti mi sarei annoiato io in prima persona non mi piace mai fare i doppioni voglio fare sempre delle cose diverse su tutte le piattaforme su tutti i luoghi su tutti i mezzi che utilizzo e che sono a mia disposizione e allora proprio un secondo dopo un minuto dopo dalla chiusura della telefonata con lui ho avuto subito l'idea perché abbiamo parlato anche di bambini abbiamo parlato di ragazzi del mondo della scuola anche perché il mio libro si occupa proprio di tutte le stupidaggini che vengono tuttora insegnate a scuola e sono state smentite da anni e da decenni dagli studiosi dagli esperti dalla letteratura scientifica e siccome questo signore è un genitore e ha deciso qualche anno fa di togliere i figli dalla scuola per intraprendere quella che viene chiamata l'istruzione parentale cioè fare istruzione fare scuola a casa con tantissime difficoltà vi potete immaginare allora ho avuto quest'idea ma perché allora non utilizziamo YouTube Kids e creiamo uno spin-off un filone di Podcast Fiore dedicato proprio ai bambini e ragazzi perché voi sapete che su Twitch bisogna avere almeno 13 anni per poter essere iscritti tralasciamo questo fatto Daniele per ragioni che tu sai però ufficialmente è così e quindi Podcast Fiore non poteva avere un pubblico dai 12 anni in giù perché proprio su Twitch non potevano stare queste persone e allora ho pensato facciamo una forma di Podcast Fiore per coloro che sono più piccoli e che non possono stare su Twitch e siccome quindi posso utilizzare la piattaforma apposita YouTube Kids allora come lo chiamiamo Podcast Fiore Kids Fiore Kids e quindi mi sono inventato questo io fossi io fossi YouTube ti lanci ripetarmi così lanci i petardi mi sono inventato quindi questo Fiore Kids che trasmetto in diretta su YouTube Kids ma vi ho detto che è nato su quella piattaforma e allora non solo lo trasmetto in diretta ogni domenica su YouTube ma tutte le puntate le carico la domenica stessa anche appunto su questa piattaforma perché grazie a questa piattaforma si è nato nel settembre del 2021 lo Spinotti e cioè Fiore Kids allora un'altra domanda ma se dovresti spiegare ai bambini cos'è 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 il tuo canale cos'è cos'è Twitch cosa cosa che diresti questa è la domandina come sai che io non vorrei spiegare che cos'è Twitch piuttosto vorrei spiegare che cos'è Fiore Kids perché io a me di Twitch francamente non me ne frega assolutamente niente Twitch si chiama su Twitch lui si chiama porca spiore bannatelo 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 perché sono su Twitch perché attualmente è la piattaforma migliore per andare in diretta appunto semplicemente se domani esce un'altra che funziona meglio non lo spiegheresti mai quindi no perché non nutro nessuna stima nei confronti di questa piattaforma quindi perché dovrei spiegare che cos'è a un bambino assolutamente non me ne frega niente ci sono cose molto più importanti da spiegare a chi appunto si trova in quella fascia d'età quindi piuttosto spiego che cos'è Fiore Kids gli spiego che attraverso le puntate di Fiore Kids ogni domenica a mezzogiorno in diretta in 20 minuti risolviamo delle missioni così possiamo scoprire delle cose che neanche gli adulti sanno cioè io praticamente ogni domenica sto raccontando a bambini e ai ragazzi quello che neanche i loro genitori sanno quello che neanche i loro insegnanti sanno quindi capisci questo piuttosto gli spiego gli faccio venire la voglia di essere parte del mio pubblico ogni domenica e di venire insieme a me a scoprire i misteri della scienza i misteri della storia dei racconti fantastici dei miti delle leggende questo è quello che mi interessa allora aspetta mi si è dimenticata la domanda aspetta un attimo ma leggi un po' i commenti per esempio Fabiana ha scritto la parte più bella di Fiore Kids è il Black Call e si il Black Call compare là sopra il nostro buco nero che ci fa capire qual è la missione della settimana che dobbiamo risolvere io lo fisserei al messaggio di Fabiana dai fissalo fissalo quanti anni c'ha Michael tu lo sai Dani è mio moderatore perché per esempio Fabiana ha scritto che Ivan è un'agenda vivente relativamente appunto agli impegni quindi se magari mi dici quanti anni ha Michael gli potevo dare pure qualche consiglio aspetta un attimo che penso alla domanda e glielo dico cioè penso mi devo ricordare perché anche se è andato via Michael comunque il consiglio lo possiamo dare pure a tutti gli altri no quindi aspetta tu facci la domanda Daniele mentre tu pensa alla tua e cioè appena tu hai visto i miei contenuti che cosa hai pensato questa allora ho visto il canale Twitch e ho iniziato a seguirlo no però dico quando proprio l'hai visti quindi al di là del metto in seguito allora sinceramente ho visto da Jack ciao Jack un abbraccio ho visto non c'è ora ho visto la Jack porca spiore sono venuta no no era da Alessio sono da Alessio vero non mi ricordo eh sì ti ho conosciuto da Alessio ho visto sto canale Twitch quindi ho iniziato ovviamente a seguirlo e ho visto un pochetto cioè la prima volta che l'ho venuto la live era solo abbonati poi ovviamente mi hai dato il VIP c'è iniziato a guardare le live che mi interessavano molto perché parlavi pure di cose interessanti e poi poi sei caduto nella tappola quindi esatto poi sei caduto la tappola in bit madonna 106 ah a Jack io l'ho di 147 bravo complimenti un applauso a me che ho buttato i soldi quindi domani te ne aspetta un altro di 147 perché ci sono gli interessi qua sul mio canale addio si io non ho soldi allora Daniele utilizza bene questa occasione mi stai facendo un'intervista tutte le domande che vuoi me le puoi fare solo stasera pure voi della chat quindi mi raccomando tutto quello che ti viene in mente ma sinceramente se ti devo intervistare ti intervisto pure in doccia no no è l'unica intervista che hai a disposizione nei miei confronti quindi o adesso o vai più ah perché dopo questa intervista poi mi banni no non potrei farmi più questa intervista quindi tutte le domande che vuoi farle adesso questa intervista sai dove finirà su youtube ma anche sul mio canale finirà su youtube quindi sì lo so allora io non te la mando la clip la scarico io non ti preoccupare che c'è ormai i segreti del mestiere perché devi sapere che sul mio canale youtube trovate tutte le mie interviste che mi hanno fatto disattivo i code allora eliminerò il code ragazzi no no ho il diritto di avere questo file quindi te lo dico hai il diritto ma chi sei perché io sto prestando qua il mio tempo la mia immagine mi stai prestando il tempo mi stai prestando il sipario pure il sipario è pure la casa della conoscenza abbiamo qui la casa della conoscenza dai dai c'è qualche segreto che vuoi sapere mi raccomando allora il segreto è ma i tuoi genitori allora questa è la domanda ma i tuoi genitori quando è che hanno scoperto quando facevi le live no non è che l'hanno scoperto glielo ho detto io perché prima di partire con questo progetto glielo ho detto anche perché essendo qua appunto ogni giorno dalle 18 alle 20 non è che ma lo sanno e sono in casa con loro certo che lo sanno ma come hanno reagito come hanno reagito no hanno reagito in maniera interessata perché appunto era una cosa nuova considera che la sto portando avanti da un anno tipo ma sapevano cosa era Twitch e glielo hai dovuto spiegare ma non lo sapevo manco io all'inizio quindi figurati cosa gli ho spiegato ma dove hai conosciuto Twitch dove l'hai conosciuto grazie a Raffaele Tovazzi appunto grazie al filosofo esecutivo perché lui è sbarcato su Twitch da YouTube pure lui da YouTube proprio come me tra il 2020 e il 2021 quindi poi mi sono iscritto per seguire lui e da lì poi è nato tutto senza di lui io adesso non sarei qua io sai come l'ho chiamato Daniele l'ho chiamato il mio papà digitale perché quello che mi ha introdotto in questo mondo nel mondo del mondo il tuo papà il tuo papà digitale lui lo sa un saluto un saluto al papà di Ivan digitale digitale tipo tuo padre come il tuo vero padre a quest'ora ti starà tirando i pugni adesso mi arrivano le sedi qua in faccia sì sì Ivan allora un'altra domanda ma Fabiana ride intanto stava facendo tante di quelle risate lei figurati guardalo in chat sta riendo io sinceramente ma tu c'è Daniele ah ma Daniele caspita questa è un'intervista storica perché appunto mai nessuno di così piccolo mi aveva fatto un'intervista e quindi siccome io ho chiesto nell'ultimo episodio del mio podcast quello su Spotify qual è un evento memorabile che hai vissuto magari tu puoi rispondere proprio in questa maniera cioè intervistare podcast fiore evento memorabile evento storico intervistare podcast perché tu Daniele sei stato il primo così piccolo a intervistarmi non mi era mai successo quindi mi ricorderò per sempre questa cosa non posso mutare la live e dirti parole brutte quindi fai finta che te le sto dicendo va bene Daniele stai andando bene stai tranquillo tanto tu la vedi vero se io fissi i messaggi di live la vedo la vedo ma che bella la fotoprofile Fabiana ride sempre Fabiana si ride sempre perché c'è davanti me hai capito quindi siccome sono un pagliaccio ride sempre ecco perché ti insulti da solo pure che che pagliaccio che sei Ivan ok ma mica è mia mi fai lavorare pure la sera Daniele va d'onda vabbè è tua live rega io vado a riposarmi ho ancora ho ancora un'intervista il canale adesso diventa si sono fiore il canale non è possibile vabbè è tua è tua la line addio no non è dai approfittane tutte le cose che vuoi stai giocando tutte le cose che vuoi sapere dai chiedimelo adesso perché allora le cose che si si sono folle guarda che sta scritto Fabiana si sono folle ecco la domanda è questa cos'è cos'è queste vibrazioni senza delle vibrazioni che sono ma non lo so che cosa sentire comunque se ti viene in mente anche qualcosa al di là di Twitch no c'è proprio delle curiosità che vuoi sapere una curiosità ma che ma hai preso una nota a scuola ma hai preso la nota ah aspetta aspetta vabbè una volta mi hanno sbattuto fuori dalla classe quello sì si sente hanno sbattuto ma perché perché era una pazza quella allora Daniele mi parli un attimo della tua è una professoressa di arte professore ma come è questo professore di arte dimmi un po' è simpatico è simpatico ma è un po' un matto pure lui no no come no i professori di arte sono sempre pazzi tu sei pazzo la casa la casa della conoscenza allora comunque ti racconto praticamente una professoressa un po' un po' così no un po' su di giri che che aveva un po' degli scatti insomma un po' particolare è entrata in classe è entrata in classe tutta isterica no e ha posato la propria borsa sulla sulla cattedra solamente che poi quella borsa è caduta per terra perché non l'ha appoggiata bene ed eravamo in in terza media eravamo in terza media penso e alle medie la nostra classe era proprio una confusione che non ha idea ma ci divertivamo a ridere con le lacrime dall'inizio alla fine delle ma ti giuro proprio era uno show infatti sono stati tre anni bellissimi veramente e allora giustamente da coglioni come eravamo appena è ricaduta la cosa a terra io ero al primo banco quindi proprio davanti a lei e mi metto a ridere con un mio compagno che si trovava accanto a me all'altro banco no e quindi questa qua mi vede eh perché ridi Fiorillo vai fuori Fiorillo Fiorillo vai fuori e io ho detto vai fuori cioè come si permette questa dire a me di andare fuori ma stiamo cercando no che poi poi ora poi ora poi ora vede ma questo qua è su Twitch casa della conoscenza sì figurati questa non serve neanche di essere al mondo quella là figurati ma e io ho detto no vado fuori io rimango qua e poi e poi ho insistito vai fuori vabbè e vado fuori ti ha messo assente ti ha messo assente ti ha messo assente no non poteva mettermi assente però ho aperto giusto la porta e sono stato sul ruscio della porta non è che sono andato fuori perché non è che sto fuori mi faccio vedere dal vidello dal preside che sono fuori perché io non vado fuori assolutamente sono rimasto là poi mi ha fatto stare due minuti e poi mi ha fatto ritornare i denti cioè una pagliacciata una pagliaccia come l'avere insomma allora posso parlare col sipario togliti un attimo oh sei il primo a parlare col sipario oltre a me cioè non era messo stesso sì il primo levati levati sipario perché perché sei in una casa di deficienti tu ho fatto i fatti tuoi devo farmi i fatti miei si parla si parla cosa mangia non ho capito che mangia che nervoso non ho sentito che cazzo mangi che sei nervoso io non mangio io mi nutro di conoscenza sipario quanto grida Ivan e le dirette mi dicono d'allergia ma lo smatiamo stupito non è vero che grido è scritto Fabiana Fabiana ha ragione comunque devi sapere che io e il sipario ci comunichiamo anche in maniera telepatica per questo nelle dirette non si sente quindi mi ha detto adesso di smetterla con questo siparietto a proposito di sipari e quindi non mi sono tornato qua caro Daniele ma cos'è quel bel disegno rosa è una delle nostre fan art quello lì lo ha fatto Diego che si chiama Porco Spino su Twitch io ho sentito io ho sentito un po' Dio ho sentito no Porco Spino Porco Spino ma perché si chiama Porco Spino ha cambiato nome si chiama Fiore Spino perché Fiore Spino in onore mio e l'ho presentato su Fiore Kids quel disegno e poi l'ho appeso ma pensa no raga io sinceramente io non mi cambierò mai il nome su Twitch se ci sono Fiore no su Twitch no però lui l'ha cambiato nel nostro server di Discord ah solo sul server di Discord solo sul server di Discord l'ha cambiato il nome allora allora lo soffro anch'io scusa se vuoi sì cioè io non mi chiami adesso quindi io su Discord mi chiamo Tizio eh no come ti chiamerai bannatemi da questo canale mamma mia Daniele disegna Ivan anche tu scrivi eh ma secondo me Daniele non sa disegnare quindi figurati ma io disegno sul computer aspetta la levo un attimo guardi guardi ora non non senti più eh non si sente più vedi il mio loghetto quanto è bello vedi quanto è bello allora quelli che dicono io disegno al computer è un po' come quelli che dicono io faccio musica elettronica faccio musica al computer una cazzata cioè non è non è disegnare quello non è fare musica quindi Daniele ok basta sto divertendo sui chat allora la mia domanda in questione è sipario ma no non vuole più parlare con te cioè ti ha già concesso troppo tempo no no devo parlare devo parlare un attimo col sipario togliti non vuole non vuole sipario no no non vuole sipario ti svelo questo segreto Daniele visto che ci siamo perché quando ho voluto cominciare proprio con mettendo il sipario no quindi con chiamando lo studio casa della conoscenza e tutte queste cose qua queste cose scenografiche la mia idea era quella di far parlare il sipario durante le dirette di Twitch tipo fare dei momenti ironici no col sipario dove tipo ci tipo lui diceva ma basta adesso hai capito all'improvviso così no fare dei siparietti divertenti e anche magari mi sarei rotto il cazzo fosse lui ma da cosa nasce il sipario? aspetta nativa aspetta ti devo raccontare questa avevo bisogno di una voce avevo bisogno di una voce che non fosse la mia naturalmente quindi una persona che si collegasse insieme a me ogni giorno in diretta e che ogni tanto durante le varie puntate faceva la voce del sipario no quindi ti dico che l'avevo chiesto a Matteo al nostro alla nostra regia il capo supremo però lui siccome a basket eccetera non poteva stare ogni giorno hai capito a fare la voce insieme a me tra l'altro con Fiore Kids mi serviva questa disponibilità anche l'intera giornata della domenica quindi è chiaro che non c'era nessuno che mi potesse dare questa cosa allora ho arenato quest'idea e quindi il sipario per questo non parla ma sai da cosa è nato tutto questo? per esempio la casa della conoscenza questo nome è nato da un'intervista che ho fatto proprio in diretta considera che ti sto dicendo Daniele tante cose che non ho mai raccontato a nessuno l'intervista della quale parlo ma queste persone poi lo vengono a sapere dalla mia live quindi si esatto solo da questa intervista perché non avevo mai parlato addirittura mi sento emozionato si trattava praticamente della prima intervista che ho fatto nel mese di giugno o di luglio dello scorso anno ad una persona esterna da Twitch perché fino ad allora avevo intervistato solo persone appartenenti a questa piattaforma ma è nessuno che venisse da fuori invece in quell'occasione ho intervistato Lorenzo Suave che è praticamente il direttore di una azienda italiana una società che organizza mostre si occupa di musei ed è stata quella scelta in tutto il mondo scelta dal governo egiziano per creare il museo più grande al mondo e appunto sono loro che l'hanno creato sono degli italiani e io ho intervistato il direttore quindi pensa che onore è stato per me e in quell'occasione lui ha parlato che c'era tanta luce in questo studio in questa stanza la luce della conoscenza e lì poi mi è sorto una lampadina è vero c'è tanta luce la luce rappresenta la conoscenza allora questa d'ora in poi sarà la casa della conoscenza e mi è venuto in mente questo nome prima invece lo chiamavo solo lo studio virtuale ma non aveva un nome vero e proprio poi ma che nome era lo studio? ma che nome? è uno studio virtuale questo un po' come un programma televisivo perché in realtà non esiste tutto quello che vedi è come se fosse una funzione se dovresti spiegare a qualcuno cos'è un podcast come lo definiresti? cos'è un podcast? proprio quella definizione ufficiale vuol dire play on demand broadcasting che cosa vuol dire? vuol dire che tu clicchi play quindi attivi una registrazione che non è in diretta ed è solo audio il podcast è esattamente questo infatti il nostro podcast è sulle piattaforme di podcasting quello che facciamo invece in diretta è un programma è un'altra cosa non è il podcast creiamo il podcast lo registriamo anche in diretta e lo cariciamo è venuto Jack scusami se ti fermo è arrivato Massimo ciao Massimo benvenuto ma strano vedere Ivan come ospite non è intervistatore e ti dicevo Daniele per concludere quella quella domanda che mi hai fatto dopodiché prima invece della seconda serie quindi considera tra agosto e settembre quando la stavo preparando e la stavo organizzando mi è venuto in mente di calcare ancora di più la mano con questa casa della conoscenza rendendola un vero e proprio studio televisivo e quindi avevo bisogno di un po' di scenografia non sai quanto ci ho messo no mi sono attivato in cam che figura di merda ma meglio ciao Alessio ah c'è anche Alessio ciao Alessio buonasera pure a te ti stavo dicendo Daniele non sai quanto ci ho messo per trovare aspetta il signor Jack ci scrive in una domanda ce l'ho so che aspetta ma allora la leggo io Massi la domanda perché non ti sto sentendo Daniele mi senti? adesso si vai io ho una domanda ce l'ho so che sei un grande fan di zucchero hai avuto la fortuna di conoscerlo di persona adesso ti rispondo Massimo adesso ti rispondo se no non riesco a concludere quel ragionamento di prima ti stavo dicendo Daniele quando stavo organizzando la seconda serie che è cominciata nel mese di settembre ed è durata fino a dicembre dello scorso anno ho voluto quindi rendere ancora di più questo studio come un vero e proprio studio televisivo no? e tutto partiva naturalmente dall'inquadratura perché avevo in mente quello che volevo far vedere in questa inquadratura che stai vedendo adesso no? quindi tutti questi elementi non a caso si trovano in questo in questo modo in questa posizione e poi in base agli elementi quindi presenti nell'inquadratura potevo gestire la scenografia delle mie puntate e ci ho messo credo almeno una mezz'ora per trovare questa inquadratura perché gli elementi che vedi dovevano stare per forza nella scena quindi ci doveva essere il calcolatore che si doveva vedere ci doveva essere lo schermo ci doveva essere appunto il sipario dietro di me dovevo mostrare il quadro di zucchero che appunto lo sponsor e il suo artista l'an petris lo dovevo mostrare per forza dietro invece c'è il tavolo delle meraviglie per fiore kins dovevo mostrare anche la libreria per far vedere il momento in cui prendo il tacquino dal quale ricavo tutte le informazioni che derivano dai miei dialoghi con i professionisti di quello che racconto e non era facile far stare tutto all'interno di quell'inquadratura le ho provate tutte dall'alto dal basso perché chiaramente dovevo adattare questa situazione al contesto della stanza dalla quale vado in diretta quindi c'è una scrivania c'è dietro una libreria e quindi non potevo fare più di tanto e alla fine dopo tanti tentativi ho trovato appunto questa inquadratura che non è a caso quindi e non è banale e quindi da là mi è venuto in mente come strutturare meglio ogni puntata quindi il fatto dell'anteprima dove ci lanciamo alcuni aggiornamenti su quello che facciamo poi cominciare dicendo appunto che abbiamo tutti questi dispositivi poi su Fiore Kids facciamo comparire il buco nero da dietro il tavolo delle meraviglie insomma tutto questo è nato proprio tra l'estate scorsa e l'autunno in occasione della seconda serie poi per rispondere a Massimo invece guarda devi sapere che se tutto va bene tra allora fammi fare un calcolo tra meno di due settimane sì tra meno di due settimane cioè il 26 aprile sarò proprio a un suo concerto all'arena di Verona un concerto che era stato inviato dal 2020 e sarà il mio settimo concerto di zucchero che vado a vedere proprio dal vivo considera che ogni volta o meglio quasi ogni volta sono riuscito anche a beccarlo per un autografo infatti c'è un album che è autografato proprio da lui però sono robe da matti perché vuol dire che devi stare lì quasi sempre all'arena di Verona devi stare lì dietro l'arena aspettare che arrivi insieme ai musicisti poi aspettarlo quando esce andare a vedere dove va a mangiare perché festeggia con i suoi amici con la sua famiglia perché di solito vado ai suoi nei suoi concerti nel giorno del suo compleanno quindi sono ancora più importanti ancora più belli puoi aspettare che esca dall'osteria o dal ristorante insomma è veramente una sfacchinata però è bellissimo è bello vivere anche questi momenti quindi di persona a persona parlandoci di no però da fan sì da fan sì ci faresti vedere l'autografo siamo curiosi sì allora aspetta un attimo raga allora se ne è andato rega rega se ne è andato è perfetto bomba atomica sulla casa della conoscenza bomba atomica bomba eccolo qua ti stavamo lanciando le gomme guarda ti faccio vedere questo è uno dei miei album preferiti perché raffigura proprio il suo spirito black direttore ed è black cat allora questo è il suo autografo ah tra l'altro quando mi ha autografato questo album dovete sapere che sono comparso nel dvd ufficiale di quest'album cioè della versione live perché che hanno fatto vedere il backstage del concerto io praticamente ero presente sia prima che cominciasse il concerto quando sono arrivati i musicisti e naturalmente ho avuto gli autografi anche da parte dei musicisti le fotografie che sto al nel film finale si vede me che mi faccio le fotografie con tutti questi musicisti e poi mi si vede mentre vado insieme a Zucchero appunto ad accompagnarlo nella trattoria dove avrebbe mangiato la sera e poi il momento in cui gli chiedevo l'autografo e poi devi sapere che questo film è un film documentario ho avuto anche il piacere di vederlo in prima visione in anteprima assoluta quando è stato trasmesso in un cinema di di Bologna in via Montegrappa non mi ricordo il nome del cinema ma mi ricordo il nome della via sono andato là con un mio amico facendo parte del suo fan club avevo la poltrona assicurata gratuita quindi dovevo solamente andare a Bologna mi trovavo a Ferrara quindi era molto semplice e lì quindi seduto in un cinema ho potuto vedere proprio tra le varie scene anche quelle dove ero presente io ed è stato bellissimo ti puoi immaginare e sotto il suo autografo ce n'è anche un altro se vedi perché quella volta sono stato fortunato nella sua famiglia ovviamente c'è anche sua figlia Irene Fornaciari anche lei è una cantante bravissima che stimo che ho visto più volte dal vivo e naturalmente l'ho riconosciuta o meglio riconosciuto il suo compagno poi ho visto che c'era pure lei e quindi mi sono fatto fare l'autografo pure da lei insieme naturalmente alla fotografia e mi ricordo il nome della via sai perché Daniele perché lì c'è una gelateria oh quella è la gelateria più buona dove io sia mai stato la gelateria è la ciuffo è la ciuffo è la ciuffo è la ciuffo a Bologna è la ciuffo eccezionale Ivan scusate il disturbo ma la ciuffo e non ci sono ancora stato quindi non lo posso sapere Ivan sa Ivan sa leggi qua che c'è scritto che ha scritto Fabiana no puoi guardare anche lo schermo anche ti fissi i messaggi e il signor Jack scrive anche questo Zucchero è davvero una persona che stivo pensare che è nato come musicista la chiede da un ragazzino ma poi quando lo vedi non dico sul palco perché naturalmente sul palco deve suonare deve cantare eccetera ma quando lo vedi proprio così da vicino io come persona è veramente è genuino così come anzi ti dirò di più Fabiana questo lo sa perché quest'estate io sono stato a indunigiana filattiera che è un borgo piccolissimo praticamente solo una piazza con le case intorno ma è eccezionale molto caratteristico veramente stupendo e siamo andati a filattiera perché c'era un concerto di una band che mi piace tanto si chiamano Ele Memphis è una band italiana ed è costituita da quattro ragazzi che sono quattro ragazzi eccezionali infatti mi piacciono più loro che le loro canzoni nel senso che la loro musica è bellissima ma ancora di più mi piacciono proprio loro come persone e tra questi quattro ragazzi due sono proprio due fratelli che sono nipoti suoi infatti per questo conosco questo gruppo altrimenti non l'avrei mai conosciuto perché è molto molto poco conosciuto siamo andati apposta là per conoscerli di persona sono stati eccezionali veramente eccezionali e dopodiché era una giornata di festa anche per l'intera famiglia la famiglia Fornaciari e quindi poi è arrivato il fratello di Zucchero quindi poi è arrivata anche Irene con tutta la famiglia e noi eravamo insieme allora a festeggiare perché in questo concerto eravamo noi i pochi abitanti di filattiera e la famiglia di questi musicisti la famiglia Fornaciari quindi è stato un concerto estremamente intimo durante il concerto ci hanno dedicato anche una canzone pensa ed eravamo praticamente in prima fila nella piazza di questo paese e prima c'è stato il momento della cena e c'era il lungo tavolo con la famiglia Fornaciari accanto al tavolo c'era il nostro piccolo tavolo dove eravamo io e Fabiana e abbiamo praticamente mangiato e festeggiato insieme a loro eravamo parte della famiglia poi ci siamo fatti le fotografie una domanda addirittura ci avevano proposto di avere un passaggio per tornare a Pontremoli dove abitavamo in quel momento quindi è così è proprio così sono d'accordo con Massimo una domanda ma come fa di nome zucchero Adelmo è un nome che hanno scelto per evitare che dovesse festeggiare l'oromastico visto che era emiliano e quindi non volevano legarlo troppo alla chiesa e quindi hanno trovato questo nome che pensavano non avesse un santo però poi ho visto che in realtà c'è il santo pure di Adelmo quindi non gli è andata bene io sì allora è questo leggemo anche chi è ah sì sì hai visto ma guardiamo chi è io sono curioso Wikipedia no 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 hai già sbagliato allora non hai capito niente di Podcast Fiore tu Daniele esatto ma io ho aperto apposta Wikipedia non hai capito proprio niente vuoi sapere che una persona l'ultima pagina che deve andare a visitare è proprio la Wikipedia io ero andata su Wikipedia ed è l'ultima che dove deve andare proprio non la devi toccare Wikipedia fai finta che non esista perché per chi si occupa in maniera seria di conoscenza Wikipedia non esiste leggiamo questa allora Zucchero Pseudomio di Aldo Fornaceli è un cantautore musicista italiana addirittura annoverato fra i principali esponenti del blu in Italia nell'arco di oltre 30 anni di carriera la Lanche 23 mi è così giù a 66 anni ammazza è vecchio è vecchio come te poi 25 e sì ogni tanto si perde il collegamento con con l'audio di Daniele quindi vediamo se qualcun altro ha scritto qualcosa Fabiana ha scritto una giornata indimenticabile Irene è questa anche ma anche questa canta sì sì ma se tu vai sul mio profilo di Instagram non solo trovi le foto con loro con Zucchero con Irene eccetera ma trovi anche alcuni video alcuni reel che ho fatto proprio in occasione di questa vacanza che ti ho detto lo scorso anno dove trovi anche l'intervista che ho fatto proprio agli Elementis trovi le foto con Irene insomma trovi tutto sia video sia reel e sia fotografie addirittura sì sì allora Irene Nati Irene Nati giusto sì Natali 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 perché è nata proprio il giorno di Natale praticamente come vedi il 24 dicembre quindi l'hanno chiamata pure Natali è il secondo nome sì allora Irene Natali Fuernaciari è una cantautrice e polistrumentista italiana ha partecipato al festival di Sanremo nel 2000 addirittura mazza è andata tante volte lei a Sanremo anche da ospite anche è stata coinvolta in alcune esecuzioni con altri artisti quindi sì sì tante volte è andata a Sanremo lei anzi anche partecipato in qualità di presentatrice di inviata di un programma di Rai 2 mi sembra fosse detto fatto proprio l'inviata da Sanremo era lei mi sembra o nel 2020 o nel 2019 quindi sì sì ha una storia lunga lei con Sanremo allora è alla mano non è un personaggio come tanti altri che si vede in televisione lei proprio come in questa maniera tu la vedi e appunto ne abbiamo avuto dimostrazione anche in quella in quell'occasione ok nella categoria nuove proposte ma raggiunge la notorietà nel 2010 partecipando insieme ai nomi nella categoria artistico il brano il mondo piange ma è compiletto se ascoltiamo il brano penso di sì penso che non lo puoi mettere assolutamente no no ok allora lo metterò sul disco perché lo so che il tuo obiettivo è quello di farti bannare pure da twitch però cerchiamo di non farlo adesso allora lo metteremo sul discord e telegram ok oh no cosa ridi sette spettatori grazie mille Ivan puoi andartene visto che abbiamo sette spettatori si non mette non mettere ricordiamo a tutti che se volete farmi qualche domanda scrivetela adesso nella chat perché è il momento giusto o stasera o mai più non chiedete non chiedetele quando mangio perché quello non ci interessa allora nascita 24 dicembre 1983 ammazza dove è nata dove è nata a Pietrasanta si trova in Toscana si trova in Toscana ma poi sembra una battuta a zucchero ma era una battuta era una battuta che gli faceva la sua la maestra delle elementari che diceva che erano un zucchero che era dolce e poi da lì no aspetta cosa ho toccato vabbè sempre danni mamma mia vabbè fatti un attimo fermo Daniele Fabiana chiede qual è la puntata che ti è piaciuta di più tra quelle che hai fatto la puntata che mi è piaciuta di più tra quelle che ho fatto allora me ne sono piaciute tante me ne sono piaciute tante mi ricordo per esempio che dopo forse era o l'intervista con Lorenzo Soave oppure era un'altra puntata dove ho parlato proprio delle grandi guarda chi c'è chi c'è Matteo benvenuto Matteo Matteo anche tu se hai qualche domanda che non hai mai avuto il coraggio di farmi scrivila adesso nella chat perché è il momento giusto l'intervista con me è palese e mi raccomando tutti quelli che ci stanno guardando rispetto assoluto per il divano dissipatore non mi toccate Matteo che è il capo supremo faccio il comando flashbang lo vanno già no e comanda pure qua Matteo a questo potere come comando devo moddarlo devo anche ah guarda Matteo ha scritto l'intervista con lui allora guarda Iman scrivi in chat scrivi in chat così a paura così vede con chi è che fare scrivi in chat ma non scrivo in chat scrivi in chat tu ma non si fa domande non mi fa rispondere cos'è che devo scrivere scrivi ciao tizio stasera sta perdendo i suoi superpoteri guarda cosa ha scritto Jack ciao oh vedi che è moderatore divano fa attenzione è il podcast fiore moderatore no ma divano non hai capito tizio stasera sta perdendo i suoi superpoteri io sinceramente ho sganciato il bit il bit Ivan ha un coglione lo sganciati mamma mia ti sei già pentito vero qui Ivan qui Ivan bacchetta noi tizio ah qua ci bacchetta lui il potere c'era lui allora Daniele fammi rispondere un attimo dopo una puntata è la prima volta che vedo un ospite insultato dopo una puntata in cui ho raccontato praticamente il dietro le quinte di questo museo il grande Egyptian Museum e l'ho potuto fare proprio perché ho una conoscenza personale di Lorenzo Soave che è quello che l'ha fatto praticamente verrà inaugurato presto quest'anno e quindi appunto avevo tante informazioni all'interno di quel tacuino che non sono mai state rese pubbliche non le trovate neanche in rete io le condivise proprio in diretta in una nostra puntata talvolta condivido anche informazioni che non potrei dare non ho l'autorizzazione però mi permetto di farlo perché per la conoscenza questo e l'altro ci mancherebbe ti condividi anche la carta d'identità no no solo le cose che servono alle persone la carta di credito le cose che ti permettono di viaggiare con la fantasia e con la nostra la carta di credito no la carta di credito ci serve mamma mia Daniele però come sei dispersivo io ti banno io ti banno e dopo quella puntata ho ricevuto tanti messaggi tante testimonianze di affetto in particolare alcuni audio da parte di chi? da parte proprio di Alan Petris che appunto si è iscritto appositamente su Twitch per seguire il mio canale ed era contentissimo perché ha assistito a quella puntata e mi ha detto bellissimo perché lui è un grande appassionato di Egitto no? e quindi si era molto emozionato anche a sapere quelle cose tanto è vero che poi ci siamo anche lasciati con un sogno con un progetto che è quello appunto di andare in Egitto appena si potrà perché prima c'era l'Isis poi il Covid poi la guerra la rivoluzione eccetera e quindi ancora non si è riuscite ad andare e vorremmo andare io, lui ma anche un nostro carissimo amico che abbiamo in comune che è Valentino un mio amico fiulano e il nostro progetto è quello prima o poi di andare in Egitto ecco è stata una cosa bellissima perché dopo la puntata ho avuto questo messaggio questi audio di lui contentissimo e che bello allora Fabio scrive Ivan è peggio di un prof pignolo ah io sono pignolissimo guarda veramente poi scrive Jack è la prima volta che vedo un ospite insultato ah ma guarda con Daniele mi hai iniziato a insultare ancora prima che cominciassimo un'intervista anzi vi dico anche un'altra cosa ancora prima che cominciasse la live non sapete le cose che mi ha sentito su tele meglio non mostrarle sei una pignia Ivan è una pignia comunque Daniele è vero sono molto molto pignolo cioè non ammetto che una persona si lascia andare dicendo delle cose che non sono reali e quindi bisogna essere estremamente correnti in quello che si afferma quindi per chi non sa cosa vuol dire ultima correttezza Alessio scrive però si può insultare anche l'intervistatore no non si può non si può pignolo vuol dire c'è scuro dei semi contenuti nella pigna pilolo ma si è andato a vedere su wikipedia hai visto no devi leggere l'aggettivo il secondo significato quello 8 spettatori grazie mille 9 ma essere pignoli fa parte dell'essere precisi quello lo so però volevo farlo vedere al pubblico però ho letto la prima frase non ho letto la seconda ci siamo messaggi da lei hai ragione comunque quello che vedi da lei se l'ho fatto io e lo so lo so che l'hai fatto tu però si può insultare anche l'intervistatore no no perché siamo a casa tua quindi è giusto che tu possa fare quello che vuoi basta che non mi tocchi Matteo siamo a posto mi fai parlare col sipario no no te l'ho detto hai avuto solo quel momento qualcuno se l'è perso ci dispiace no recupereranno poi la puntata sul canale youtube ma il sipario non ti può più parlare mi dispiace dai dai no però approfittiamone diciamo anche alle altre persone che stanno guardando tutte le domande che volete fatele mi raccomando ora piango finché non mi mostri il sipario il sipario me l'ha detto te l'ho già riportato prima non vorrei più parlare con te hai avuto già per pochi secondi va bene così aspetta mi cambio il nome mi chiamo tizio così puoi parlare no ricordiamo per coloro che sono arrivati adesso chi è il sipario praticamente è il simbolo del fatto di andare nel dietro le quinte in quello che è nascosto in quello che è celato è relativamente alla divulgazione quindi siccome la mia trasmissione il podcast tutte le cose del progetto mostrano appunto come si fa divulgazione da dietro le quinte è come se noi aprissimo quel sipario e quel sipario ci permette sia di fare tutto questo nella trasmissione di Twitch oppure su Fiore Kids non fa altro che inviarci degli indizi che ci permettono poi di risolvere la missione della giornata perché ogni puntata di Fiore Kids dobbiamo risolvere una missione per scoprire qualcosa di nuovo e far scoprire qualcosa di nuovo ai bambini ai ragazzi e lo possiamo fare proprio grazie agli indizi che mano a mano in venti minuti ci invia proprio il nostro sipario e grazie allo schermo invece recuperiamo le informazioni per portare a termine gli indizi che ci ha fornito il sipario leggi Fabiana fai anche tu un sipario così diventi il gemello di Ivan mi manca un altro metro per diventare un mio gemello però poi ci un altro metro pagatemi però dovete pagare il bagagesh no però in realtà potresti prendere spunto anche tu Daniele cioè io per fare queste cose vabbè hai visto che sono un matto no però faccio lavorare tanto la fantasia non sto mai fermo neanche con la mente penso sempre delle cose nuove mi sono venute in mente queste cose qua le ho realizzate e poi ti dico anche un'altra cosa perché ormai siamo quasi al termine della terza serie di Podcast Fiore ma quando poi chissà a Dio piacendo torneremo anche da settembre con la quarta serie di certo non voglio continuare così perché voglio sempre cambiare quindi mi devo inventare poi qualcosa di nuovo certamente ci saranno delle grandi novità perché altrimenti non ricomincio bisogno sempre di grandi novità per andare avanti quindi anche in quel caso farò lavorare la fantasia farla lavorare anche tu tanto inventati qualcosa di assolutamente incredibile a cui mai nessuno aveva pensato allora e farai lavorare anche me dico che sto scritto Matteo lo porto in fabbrica lo porto in fabbrica no no assolutamente no no accetti i minorenni no ma non c'è un lavoro manuale Daniele è anche una collaborazione di tipo mentale no perché magari a me vengono in mente delle idee però poi magari sono delle boiate no solo che non me ne rendo conto da solo ho bisogno di confrontarmi e la persona giusta per confrontarmi è Matteo povero Matteo leggi che ho scritto sì è Matteo povero Matteo no ma non è povero non è una cosa che fa contro la sua volontà ma guarda tu quindi ci confrontiamo io ho un'idea lui me ne dà un'altra e alla fine viene fuori appunto quello che vedete però c'è sempre bisogno di questo confronto ma tu sei tu sei ha scritto Fabi povero Matteo ma è povero ha una casa Matteo tra l'altro di sapere che ha una casa ha una stanza oddio ha una casa oddio no la sua stanza no pensavo vivesse a casa tua no ancora deve fare qualche step per arrivare alla casa della conoscenza non è non è troppo pronto come fa devi sapere che la sua camera è quasi uguale alla mia la stessa scrivania il davanzale la finestra certo gli manca il sipario perché ancora non può andare nel dietro le quinte però uguale ti giuro gli manca il sipario il cane il cane ancora non ce l'ho che deve fare e vieni tu Daniele poi c'è pure il cane ti posso chiamare Spike come il suo mi chiami come il cane certo divento sì sono cane Ivan in questa diretta sai quante ore durerà quante ore durerà non te lo voglio nemmeno chiedere Daniele non voglio avere questa informazione andiamo avanti allora ore 23 e 30 perché ho un'altra intervista ma sei matta alle 23 e 30 che altre intervista c'hai sì devo intervistare te alle 23 e 30 oggi sì ora tra poco per questi fatti tra poco ti do no ma ti dico anche un'altra cosa perché nel mese di dicembre sono stato ospitato in un in un canale di un nostro aspetta aspetta un attimo che se ne sta andando divano saluta divano no inizio fai domande sempre più scomodi a Ivan Ivan ma Ivan ma hai cagato tanto salutiamo Matteo hai cagato eh hai cagato ogni mattina sì Claudia in che senso ritmi tutti i suoi Ale no perché devo intervistare tele tra poco in che senso ritmi tutti i suoi si vede che c'era uno notturno buh Ivan non ha visto lol lasciatelo stare ah sì sì ah Claudia ritmi tutti i suoi per le 23 no no non so nemmeno cosa c'è io no non le so queste cose quindi perdonatemi sono fuori dal mondo per quanto riguarda queste robe Jack le galline guarda c'è la gallina guarda guarda Ivan le galline guarda è bellissima Fabiano lo sa che io amo tanto le galline i tacchini i galli sta mentendo sta mentendo ragazzi Fabiano adesso non farmi non farmi emozionare con le galline no ma non c'è niente da ridere sono dei rimani stupendi non farmi guarda le galline si emoziona così no però sai che non appoggio questa cosa che stai facendo Daniele perché tu ridendo e mettendo a punto queste emoticon è come se considerassi questi animali inferiori rispetto a te e non sono d'accordo perché devi ridere di un'altra specie sono animali splendidi dice Jack e la gallina è rosita e la gallina è rosita mamma mia leggi la chat leggi la chat e l'ho letta infatti ma infatti sono d'accordo con Massimo e non con te Daniele ma che capra questo stai intervistando una capra e non ti permettere di dirmi capra perché solo io lo posso fare visto che sono stato pagato direttamente dal signor Sgarbi quindi i diritti rispettiamoli capra 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 sei pagato da Sgarbi no ero quando avevo il contratto la quando mi trovavo a Ferrara cosa ridi ma io ne ho anche parlato di lui ho dedicato almeno una puntata raccontando le sue mostre il suo metodo per allestire eccetera scherzi a parte Ivan vuole veramente avere una fattoria con le galline eccetera ma non solo con i cavalli con tu con le anatre con tutto sì sì una fattoria per era gentile con i dipendenti il signor Vittorio era gentile con i dipendenti ma non so perché si lavorava a distanza comunque ma però ho conosciuto anche delle persone che lo conoscevano ah Daniele qua mi fanno le domande tu non mi fai rispondere che facciamo muto Ivan devo parlare allora allora io la domanda è ma il signor Sgarbi dopo aver risultato l'adurso educato? ok no stavo dicendo che ho conosciuto anche delle persone che avevano a che fare con lui sin da quando erano bambini no bambini ragazzi quindi magari i suoi compagni di scuola ecco di classe di scuola e mi hanno detto che era esattamente come adesso quindi un rompiscatole sin da quando andavano a scuola con lo stesso carattere anche il tipico il tipico carattere ferrarese quello eh bisogna dirlo delle persone anche con una certa età che sono state abituate a vivere sempre all'interno di quella città che è chiusa con le mura quindi lo possiamo anche comprendere questo e lui poi si è portato questo carattere anche nel corso della sua esperienza professionale la cosa bella secondo me è che lui esattamente come mostra di essere anche appunto in televisione quindi ha scardinato completamente quelle regole dell'etichetta dell'essere in una certa maniera a seconda della situazione lui invece come se fossero sempre stati a telecamere spente ha sempre detto quello che pensava con il linguaggio suo solito eccetera e quindi è proprio genuino e così come lo vedete per quanto riguarda poi invece i suoi dipendenti di persona non lo so perché appunto si lavorava a distanza io ero all'interno del museo archeologico con la fondazione Ferrara Arte che è quella che lui appunto gestiva all'epoca mi sembra anche adesso che ne sia il direttore però questa cosa non me la ricordo però è una persona molto molto corretta quindi se tu certo fai delle cazzate enormi è ovvio che un po' si possa alterare ma se invece lavori con attenzione con professionalità eccetera è una persona estremamente corretta per non parlare della qualità scientifica poi che naturalmente pure quella è qualcosa di incredibile e Daniele poi all'improvviso scompare allora insomma è proprio il suo carattere quello esattamente il suo carattere mi raccontavano di quando facevano le battaglie politiche in quei momenti in quei periodi storici a scuola alle superiori esattamente così ma una domanda ma cosa ne pensi cosa ha fatto Sgardi cosa ha fatto la D'Urso ma in realtà non so cosa abbia fatto quindi che cosa anzi dimmelo tu cosa ha fatto allora io sinceramente non lo so ma ho visto su TikTok che ha insultato la D'Urso ma lui insulta tutti sì se tu dici una cazzata lui ti insulta ma sì anzi poi ha reso questo suo insulto un marchio di fabbrica ha fatto un merchandising dedicato aspetta se vuoi ti mostro il video in diretta tanto non è copyright se vuoi te lo mostro in diretta se sei sicuro che non si è copyright non fare delle stupidaggini Daniele che poi ti bandano pure qua sotto c'è l'unico luogo dove ancora sei libero sei piede libero quindi vedi un po' tu intanto mica c'è una canzone non lo so non ti so dire allora aspetta aspetta che te la faccio te la faccio vedere un attimo ma perché devi inventare queste cose ecco ce lo vediamo tanto prendi pop corn sì sì prendi pop corn Fabiana che ne pensa? ma ne penso che quando perde le staffe è così quindi ci sta secondo me ci sta perché devi fingere di non essere in questa maniera se lo sei anche perché lui non è che stava dicendo chissà che cosa sappiamo vai via dal mio eccetera quindi se uno la raccomandata una ragazza perché non doveva non doveva dire insomma allora c'è c'è Sgarbi che dice a quella che la sto intervistando vai via dal mio studio è come se un po' dicessi vai via tu Badiene basta vado via ciao Ivan sei tu ciao rega io vado ciao la verità è che Daniele non sa quello che fare capito non sa cosa fare ecco perché vuole che lo mandi via no quando vorresti dire Ivan da ciucco posso hai visto che stai ma cos'è non ho visto cos'è è capito ma non si vede niente è gelato è gelato davvero madonna Ivan dovresti dire pure a tizio dovresti dire pure tu a tizio vai via dal tuo show esatto dovete sapere che tra le tante cose io faccio anche una rubrica sul canale di Giova di divulgazione scientifica sulla salute per far capire alle persone che cosa attualmente dice la letteratura scientifica su tutto il vasto con come dire il vasto e complesso mondo della salute cosa mangiare quando mangiare quando fare attività fisica che tipo eccetera eccetera insomma tutta la conoscenza attuale e quindi pensate sono settimane e mesi che faccio questa rubrica che trovate anche nel mio canale youtube gratuitamente mezz'ora ogni lunedì e poi uno dei miei più grandi spettatori che se ne frega altamente e mangia gelati dalla mattina alla sera parli di me ma io mangio anche il mac eh lo so quando mandi le fotografie sul gruppo lo so poi perché non ti mangi anche tu un bel panino che buono e salutare il panino ma del mac non mi piace non mi piace proprio per niente lo fai tu Fabiana sa quanto io sia difficile a trovare le cose giuste da mangiare come piacciono a me eccetera non è che se voglio mangiare voglio mangiare bene capito proprio il tizio a tentare di dire no prima prima secondo me già adesso mi sta venendo sulla pancetta il tizio della verità basta ma scusami ma tuo fratello Michele non ti dice niente Daniele non mangiare tutti questi gelati no o lui è peggio di te allora a 14 anni ero un maiale mangiava come un porco ah e poi madonna dovete mangiare con le mani tipo sono le 7 di mattina dovete mangiare il pollo dovete vabbè ma tanti anni fa appunto si e mo invece no no si è calmato secondo me si è che stava già secondo Polkasfiore ecco allora perché si è calmato no secondo me si è calmato per le signorine per fare bella figura quindi si rendeva conto che non era cosa più continuare in quella maniera no le 7 di mattina scherzavo no no il tipo lo vedevi mangiava la pizza gli altri tutti con calma lui madonna calma io invece con estrema calma devi sapere Daniele proprio ci metto tre ore a mangiare proprio calmo tranquillo con la forchetta così almeno no no la pizza con la forchetta ma assolutamente però dico proprio con calma mangio con estrema tranquillità e ma cosa ne pensi di questo stream di un'ora perché questa live ne penso che ancora ne manca un'altra ora questo ne penso non fammelo pensare che devo ancora fare un'altra intervista potete non farmelo ricordare ma qual è stata la prima intervista che hai fatto tu Daniele è un intervistato in generale in generale dico le andero 92 intervista quando novembre ah novembre sempre qua su twitch sì ecco come è stata quell'intervista visto che era la prima volta mi chiam le andero quindi prima esatto ero stai qua mi chiamavo su twitch ma in limitizio il mio primo canale era ma come è stata per te quell'intervista cosa hai provato visto che era la prima volta oi Ita buonasera è tornato Ita ciao Ita bentornato se hai domande falle mi raccomando ora era a mangiare Ita ma un'ora e mezza a mangiare vabbè che io sono lento però Ita mi sembra un po' Daniele ti ho fatto una domanda dai stavo mangiando il gelato mi dica come ti sei sentito cosa vedi già si è dimenticato quando hai fatto la prima intervista a Leandera io mi sono come mi devo sentire ora che ci penso c'ho anche dopo un'intervista come mi devo sentire è perché era la prima volta per te non hai provato nessuna cosa strana ti hai sentito a disagio è un po' disagio poi usavo il programma Restream ciao Restream io lo usavo Restream faccio cagare no è bello è bello è carino ma lo fa cagare quel coso io lo devo sopportare la stream starting mi si vaga sempre è un mondo difficile Daniele un mondo difficile bisogna combattere metto via il gelato mamma mia è finito il gelato ho fatto il gelato cosa ti piace mangiare Dani oltre anche al Mac eccetera solitamente a casa cosa ti piace mangiare Ivan Ivan me me Daniele cosa cos'è che ti piace mangiare mangio il sipario vuoi far parlare col sipario dai non puoi parlare no 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 Ivan mi vanno di col tuo numero in diretta di col tuo numero in diretta prendete carta e penna raga si prendete carta e penna guarda non puoi parlare più si parla mi dispiace sicuro sicurissimo guarda che lo dico davvero il numero tuo non si è autorizzato guarda che ti faccio denunciare subito guarda che io tra i miei spettatori ho un futuro carabiniere che sarebbe oh madonna ma no no ma tu l'hai visto il video che gli hanno fatto i miei moderatori per il compleanno no arriva di carabiniere arriva di carabiniere ha scritto Jack arriva di carabiniere ma tu non sei dove abito non sei dove abito no lo so invece so addirittura alla via di dove abiti quindi proprio non c'è dubbio ma dillo in diretta no 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 non lo dico però lo so e no no che sono mi viene Jack sotto casa coi petardi no ti arriva Matteo Ufo con la sua giurma di carabinieri tizio viva tizio viva scampia ma secondo me ma secondo me tizio tu te la sei scelta apposta quella casa proprio in quella via dove si trova quella cosa molto molto bella che ti piace tanto ah ciuffo a forza te la sei scelta la casa lì hai visto ha scritto scamberi scarabinieri nel caso in cui quella cosa che noi conosciamo Daniele dovesse trasferirsi naturalmente pure voi trasferite giusto magari vado ad un'altra parte della città non è che potete stare là da soli voi e basta tipo che ciuffo ciuffo sarebbe in Africa io lo dirò anche perché poi non ti rispondono su Instagram quindi non te le fanno le spedizioni del gelato devi stare per forza dovete sapere raccontiamola questa cosa dovete sapere che Daniele stressa quotidianamente i gestori della sua gelateria preferita per chiedere ma oggi ce l'avete il gelato alla menta e sti poveracci poveracci non possono rispondere che possono stare dietro a lui su Instagram e poi va però e si prende quello che c'è posso prendermi pure niente eh non ci credo e li chiama quando non è impegnato a telefonare a me dormo XD e oggi l'ho scritto Jack me l'ha raccontato oggi infatti sì sì mamma mia che vergogna Daniele che stalker cosa vuole dire fammi delle mangi Daniele allora se mi dai da aspetta lo incollo in chat così potete pure piangere guarda quanto siamo in live un'ora e 42 e 13 hai visto Iman eh sì Daniele però sei tu il conduttore devi portare avanti queste interviste quindi quindi ancora un paio di ore di interviste Iman o si fa la notturna o si fa la nottata guarda cosa ha scritto Jack tizia ha finito le domande ma non facciamole sapere al pubblico ma non le ha mai avute in realtà queste domande se le hai inventate proprio così all'istante quindi non è vero allora io ora il documento Google davanti con le domande e non ci credo ma che se lo vedo guarda se lo vedi cosa dici sì lo sta scrivendo adesso della verità lo sta scrivendo velocemente sulla penna oppure velocemente al pc tac stampante e motiri fuori il foglio ho scritto vai ho fatto fatto visto che poi c'è l'altra intervista alle undici e mezza non ti dicono niente poi tuoi tuo fratello non gli rompi le palle parlando non diciamo comunque raga questo è lo sfondo del mio pc è bello ma non rappresenta nessuno questa raffigurazione sicuro rappresenta Ivan no l'ho fatto così l'ho creato ah ma quindi l'hai fatta te pensavo fosse una roba che hai preso ci sono uno che abbraccia vedi che uno che si abbraccia c'è Deku che abbraccia è Deku che abbraccia sono Jack l'ha capito questo è Deku io dico non è vabbè io non so queste cose quindi proprio per me sono PG grande Jack poi quello che vedi mi risponde è sempre Deku bravo bravo hai visto e invece il logo del tuo nome tizio chi è quello saresti te è Deku e ho fatto Deku i pigiama ma tu c'erai quel pigiama in quella maniera c'è lo blu tipo ora io ho il pigiama blu io ho il cielo blu ma con le orecchie gialle in quella maniera lì e allora perché c'è una coperta è una coperta da cane che c'è le orecchie così tipo gialline e travestiti in questa maniera invece di fare il disegnino ti puoi fare la fotografia tu travestito così no non sarebbe ma comunque siamo in diretta da un'ora e 45 ho capito Daniele ma non lo ripetere sempre se mi è in diretta da un'ora e 45 allora ti faccio una domanda va bene che cosa ti piacerebbe vedere di nuovo su o su podcast fiore oppure su fiore kids qualcosa che vorresti vedere di nuovo e che ancora non c'è vorrei vorrei sinceramente vedere vedere nessuno cioè io vorrei vedere il sipario e basta non vorrei oh ricordo ah l'ora davanti conduce lui quindi io me ne vado vai via ora no non posso non posso chi è ita dice chi è fiore kids ma perché si chiama ita che è un gestore di auto ita bus guarda leggi in alto ita bus vorrei 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 il canale chi vorrei non è vero allora spieghiagli chi è però voglio sapere veramente eh guarda che c'ha guarda il fotoprofilo guarda il fotoprofilo appunto che gestisce le ferroviarie è il signor 3 d'Italia è il signor 3 d'Italia veramente ha il fotoprofilo di ita bus guarda il fotoprofilo ita bus ma tizio lo sai una roba ita bus vabbè prima ti dico questa cosa qua per rispondere a ita praticamente lo spin off di podcast fiore dedicato ai bambini ai ragazzi dove però raccontiamo quello che neanche gli adulti sanno quindi in realtà è rivolto a tutte le fasce di età perché si raccontano storie vicende Massimo lo sa perché lo segue che di solito non vengono mai raccontate che derivano anche da uno studio della letteratura scientifica quindi per forza non vengono raccontate perché non si trovano solitamente in rete sul libro eccetera sono proprio in pubblicazioni molto specialistiche ita guarda cosa guida ita ah guido l'itabus no ma scherza ah scherza no ma questo ti ha creduto questo ti ha creduto davvero questo ti ha creduto ma regalo sei ritardo ah Dani ti volevo dire sta cosa perché quando poi ho fatto nascere Fiore Kids a settembre ho scoperto pure che già esiste un altro Fiore Kids e sai che cos'è? non vorrei saperlo no invece lo vuoi sapere non è un programma ma è un negozio che si trova a Monza e che vende vestiti per i bambini e si chiama Fiore Kids e hanno proprio il logo Fiore Kids è molto bello anche se è più bello il nostro diciamo la verità ma che ignora io comunque posso cambiarti no io ho pensato Daniele se io vado a Monza guarda che nome ti ho dato se io vado a Monza a conoscere le proprietarie perché ho visto che sono delle signore di Fiore Kids e gli dico ma sapete che io conduco Fiore Kids ogni domenica ti picchiamo no no e possiamo fare la collaborazione magari gli faccio la sponsorizzazione quindi così come qua metto zucchero su Fiore Kids posso mettere i vestitini che hanno loro me li mandano si può fare in qualche maniera gli faccio pubblicità e loro mi pagano un tot o mi fanno pubblicità pure insomma ci potrebbe essere pure la collaborazione mi piacciono porca a Fiore io ti immagino come una persona molto legata all'ambiente sociale una persona che fa divulgazione per aprire la mente alle persone sì Massimo considera pure che ho trascorso tanti anni nell'ambito del volontariato dell'educazione con lo scoutismo infatti poi ho ricevuto l'attestato internazionale che mi ha appunto certificato come capo scout brevettato addirittura sì e quindi appunto sono molto vicino a questo ambiente sociale probabilmente anche questa questa mia passione questa missione l'ho scoperta frequentando proprio questi ambienti no perché c'è ti danno la possibilità di capire quali sono le cose che ti piacciono di più quelle su cui vuoi investire e che magari ti terranno impegnato quando sarai grande quando sarai adulto un canale i ricordi mi dice dice in chat un canale di qualità un canale di qualità porca sfiori è capitato di passare da lui grazie 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 ma se tu mi interrompi mentre sto parlando e mi ricordo ogni volta quanto manca e non ci arriviamo mai capito tu invece devi far scorrere il flusso il flusso addirittura stai sempre là a pensare quanto manca ricordi tv ti ho lasciato ok niente devi sapere Daniele per aggiungere una cosa a quello che ha scritto prima Massimo adesso infatti lo chiamo Massimo perché se no poi nel gruppo telegram mi confondo sempre Massimo infatti solo oggi ho pensato ah ma Massimo quindi è Jack quindi proprio ero fuori dal mondo non riuscivo bene ad associare le cose se lo chiami Massimo si nervosisce ah ok allora Jack però almeno oggi ho capito perché se no effettivamente ho avuto l'illuminazione no ma infatti ma sì sono sempre stato io e che Massimo è mio nome no mi confondeo pensavo fosse un altro no no a me piace Massimo no no a me piace Massimo è Daniele che mette in giro le fake news ecco non è vero non è vero nel percorso scout devi sapere Daniele che ci sono delle cose che si chiamano specialità queste specialità servono per far capire al bambino o al ragazzo circa fino a metà delle scuole superiori più o meno quale potrebbe essere il mestiere che farà in futuro quindi c'è la specialità giornalista c'è la specialità botanico amico degli animali topografo tutte le cose possibili prendendo queste specialità in settori che sono ben codificati che sono poi brevetti o alla fine effettivamente il ragazzo capisce quello che gli piace fare su cosa vuole investire in futuro io avevo infatti informatico avevo giornalista queste cose qua e in effetti poi ho intrapreso questa strada quindi probabilmente molto ha giocato pure questa mia educazione questa mia crescita in quell'ambito tu invece Daniele oltre alla scuola fai qualcosa al di là appunto di Twitch dei tuoi canali tipo fuori fai qualche squadra no niente nella mia vita faccio Twitch basta la sedia fai pure le sedie ah bravo quindi manualmente creo le sedie visto ma le tiri come sgarbi ti ricordi quando ho tirato la sedia sì faccio come sgarbi mi piace se gliela tiri a tuo fratello poi lui ti scaramenta l'armadio addosso secondo me addosso direttura tizio è bravo a fare lampade ah fai le lampade in che senso vuoi diventare ben affrontati esatto le costruisco nuove spettatori sono famoso costruisci lampade eh ogni tanto costruisci le lampade Daniele le costruisci e poi le fa esplodere no ma sul serio le costruisci ma io secondo te costruisco lampade ma può essere ma quando ero piccolo giocavo con le cose elettriche i sistemi elettrici facevo i circuiti quindi ci può stare le lampadine e si è spaccato la stessa mamma mia perché dovete sapere che Daniele voi adesso non lo vedete ma io l'ho visto più volte non sta mai fermo mai se si fa una videochiamata con lui lui si scaraventa con la sedia va a destra a sinistra salta sui muri lancia in aria le cose proprio un matto io una lampada di tizio la prenderei io una lampada di tizio la prenderei mi vogliono ruvere le lampade ma tipo facciamo finta Daniele che tu in una giornata all'improvviso non abbia più la rete non è più internet ok no facciamo finta facciamo sto gioco il computer esplode nulla di elettronico che cosa ti piacerebbe fare in quella situazione andrei dal tecnico in questo gioco puoi uscire puoi fare quello che vuoi però appunto ti sei rotto tutto diciamo così andrei dal tecnico e mi urlerei brutta 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 ricordi io ho una risposta io ho avuto un'immagine di tizio che fa meditazione con il barbolo manderei disdetta a team manderei disdetta madonna sì ho capito daniele che non c'è però modo di ripristinare niente quindi quindi che cosa faresti non ho sentito la domanda che ho sentito tu cosa no no veramente oh rega vero che l'hai sentito metà la gama vero allora te lo ripeto facciamo finta che non c'è modo di ripristinare il collegamento di far funzionare il computer e niente ok quindi tu che cosa faresti in questa situazione niente internet e niente strumenti elettronici come hai detto i ricordi dare disdetta team sì sì vabbè hai mandato la disdetta team perfetto poi che fai andrei sotto casa a fare la ricarica della wind direi wind fatemi la ricarica che sto sentito fai finta che tutti sti negozi non ci sono più morti tutti la faccio online non c'è più la rete non c'è più internet morto tutto cazzo accendi aspetta chiedi al vicino di passarti il wifi non c'è no no non hai capito è stato spento internet non esiste più facciamo finta che non esiste più quindi nessuno ci può andare porca troia sinceramente dormirei per tutto il giorno ah dormiresti ma perché ti senti un po' stanco per questo ma passa il tempo passa il tempo ah per passare il tempo assolutamente disdetta team a disdetta team 500 ore di bolletta però dopo che hai dormito un po' alla fine ti senti molto riposato e quindi non riesci più a dormire in quel caso che fai allora dormo ancora ti sei svegliato e non ce la fai più di stare a letto che fai? vado a mangiare ok quindi dormi mangi poi va a cagare vado a pisciare ok allora le fai contemporaneamente queste due cose io sì eh no 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 ma ma un bel libro ah un bel libro leggerei ma ce l'hai già sto bel libro che vuoi leggere o te lo devi comprare? compro sapete che voglio comprare? aspetta un attimo che apro Amazon Ivan lo so già ho già capito io ma Amazon aspetta che lo apro che è lento e scusami però vedi Daniele già il fatto che ci ha dovuto pensare tanto per sapere che cosa fare nel caso in cui eccetera eccetera è indicativo secondo me invece dovresti già sapere la risposta quindi pensaci adesso perché ci potrebbe essere quell'evenienza e quindi così sai già che cosa fare nella situazione che ti ho descritto e te che sta prendendo Amazon? io sapete hai mai fatto parte di qualche cosa al di là della scuola tipo non so nella scuola di musica o qualche sport hai mai fatto qualcosa del genere prima negli anni precedenti? allora io sto per mettere il libro che voglio oh Dani forse prima del covid facevi qualcos'altro niente ah ok ma niente il catechismo nemmeno secondo me il catechismo sì ragazzi allora il libro che sto per mostrare di reta è una pagliacciata conferma una pagliacciata voi comprarete questo libro? e se lo presenti così probabilmente no Daniele Ivan Fiorillo l'acqua nel libro non la scuola leggiamo cosa racconta eh eh questo articolo ha funzionato anche la Diottaf eh io ho una spettatrice Irene che l'ha comprato proprio con l'applicazione dei diciotta anni appena ha fatto il compleanno ma come ha fatto? perché chi ha diciotta anni ha questa applicazione con un buono che può spendere in libri in cultura e lei l'ha utilizzato anche per questo libro Ita ma devi moderare un canale e cancelli il messaggio Ivan devo cancellare il messaggio no non puoi mi sa devo farlo io pure mentre sono no non puoi devo farlo io no io raga se cancellò la chat se cancellò la chat tanto chi l'ha letto Daniele ma non prendiamoci in giro che ti interessa vabbè l'acqua non è blu ma non a scuola no l'acqua è blu ma non a scuola l'acqua è blu io lo dicevo sempre ah non cancelliamo la chat allora non mi cancellate la chat l'acqua non è blu ma non a scuola copertina flessibile 16 marzo 2021 flessibile vuol dire che la puoi piegare perché ce l'ho pure qua il libro lo faccio vedere flessibile vuol dire che puoi fare così vedi la puoi piegare aspetta un attimo invece la vecchia mostra ce lo mostra mostra il libro flessibile vuol dire che puoi fare così quindi è proprio un manuale tascabile non è pesante ed è la nuova edizione invece vi mostro anche la primissima edizione quando ancora non avevo non avevo questa casa editrice la vertigo e questa primissima edizione era esattamente il libro originale ma tu l'hai pagata con la sovraccoperta vedi che c'è la sovraccoperta per tenere il segno ma tu hai pagato il libro copertina rigida no no questi no perché me li ha dati la casa editrice tipo ti ha preso il libro ti è come? ti hanno dato il libro e hanno fatto ti è ti è sto libro no no non è così e questo è il proprio omaggio per l'autore poi ragazzi appena che c'è di nuovo l'ospite è nuovo dovrei staccare la live due secondi e rimetterla perché devo per la replica dopo che discaricarla hai capito? ah ok quindi se no c'è tutto intero vedi la live di sette ore cioè poi ritagli tu poi non ritaglio io no no certo sì 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 allora cosa possiamo dire tanto Ivan se vuoi staccare anche prima che mi faccio una pausa no come vuoi tu gestisci tu io ci sono quindi come vuoi allora Ivan grazie per questa sera bellissima fammi parlare col sipario solo perché me l'hai chiesto così eh grazie ciao sipario e stacca sta live come stai sipario come stai sipario dai sipario dai dai rispondi come stai sipario ha detto che ormai ti ha detto di staccare la live quindi punto non ti rispondeva più se no qua non concludevamo mi dispiace ha un caratteraccio e ragazzi l'acqua non è blu nella scuola l'acqua è blu l'acqua è blu allora ma tu non hai spiegato il concetto fondamentale di questo libro Daniele che intervista mi fai spiega cosa è questo libro ma non far vedere solo me magari metti pure la schermata di prima così se no comunque si sono te c'è un talento dormire ovviamente con talento perché in pratica intanto guardate che bella la copertina aspetta che ti rimetta il scambio intero aspetta rifarlo vedere che l'ho scelta io tra l'altro dal database della casa editrice con tantissime immagini migliaia e migliaia le ho scorse un po' e ho visto che questa era proprio quella perfetta e racconta proprio tutte le stupidaggini che si insegnano ancora adesso a scuola che bella paradossalmente più passa il tempo e più i libri di scuola non vengono aggiornati e riportano informazioni che ormai non sono più ritenute vere dagli studiosi dagli scienziati dagli esperti e quindi i nostri ragazzi come appunto Daniele imparano tante cose assolutamente false e poi si portano queste conoscenze nel corso della loro vita non le mettono più in discussione e costruiscono le conoscenze future su basi che non sono fondate e che sono quindi anche potenzialmente pericolose il titolo parte proprio dalla prima cosa che si insegna a scuola cioè che l'acqua è trasparente in realtà non è così fisicamente è blu l'acqua non è vero che non ha un colore e io spiego appunto questa storia insieme a tutte le altre faccio anche delle interviste agli esperti del settore per capire insieme come risolvere questa situazione allora ha finito io comunque io vi saluto aspetta un attimo non l'abbiamo vista neanche un secondo stasera no no stasera un po' se li indigiamo invece di metterti tutto giacca e cravatta tutto fatto allora ora andiamo passiamo signor tele no no ragazzi e tanto ora andiamo da tele quindi cioè andiamo da tele ora ci sono ospite tele quindi se volete restare no no niente ora ti fa da tele intervista facciamo Ivan grazie per questa bellissima intervista grazie a te Daniele per avermi intervistato e per avermi pensato per questa tua cosa grazie di cuore ora raga tra pochissimo andremo a intervistare Koso e Koso devi intervistare tele ma vai a dormire invece di intervistare Ivan puoi stare ancora qua cosa vuoi dire alla gente che ci sta guardando ma io non ho capito ma è finita la nostra intervista ancora non ho capito allora questa intervista come la vuoi descrivere? a caldo me lo chiedi proprio adesso mentre ci siamo ancora dentro sì e come la vuoi descrivere? insolita l'intervista insolita perché ho fatto tante cose che di solito non farei e l'ho fatta solo qua appunto per te di a cui? mettermi a a dare la parola al sipario è chiaro che non l'avrei fatto in altre situazioni invece sul tuo canale si non posso descrivere Ivan è indescrivibile hai capito Daniele questo insomma assolutamente ma tu stai già morendo di sonno adesso figurati tra mezz'ora con quell'altro se la devi fare da solo secondo me l'intervista tele sono sono allora allora aspetta chiediamo signor tele se è pronto se è pronto a casa allora dovete sapere anche quest'altra cosa di Daniele svegliamolo invece di tenere segreti perché lui vi dà un orario per esempio alle 21 ok ma inizia a rompere le palle almeno da un'ora prima e se non rispondete al telefono ma dove sei ti sto aspettando mi raccomando vieni quindi sto poveraccio appuntamento alle 23.30 comincia già adesso a rompergli l'anima aspetta un attimo Ivan tu ti intratieni ormai che dovete sapere che per stare su Twitch ormai bisogna fare i pagliacci quindi siamo molto abituati noi a intrattenere le persone però vorrei approfittarne proprio di questi ultimi minuti per dargli la possibilità di fare si fa le domande si fa le domande e si risponde ah no Ivan ora che ricordo l'intervista l'ho prenotata alle 23.30 quindi devi ancora restare per un po' ok ma tra l'altro si insulta pure da solo a fa culo io domani vado a ricaricare questi soldi li do lo Teiban ho capito che io ti ti offrirò il gelato Ivan intrattieni Ivan intrattieni Ivan intrattieni Ivan porta pazienza con Daniele ci vuole tanta tanta pazienza Alessio Brugnoli Alessio Brugnoli è qua da quando è stata la diretta è Alessio Brugnoli che è silenziosa ma tu sei sicuro Daniele quindi può essere che grazie ad Alessio quindi ci siamo beccati no in qualche sua live tu hai visto no e poi sei venuto ho visto questo essere Alessio è colpa tua questo costo essere bruttissimo io Ivan mostraci il tuo cellulare ma perché devo mostrare il mio cellulare che sfondo hai la qua no ecco lo sfondo è una grafica un disegno che mi è stato realizzato da uno spettatore sì sì ve lo mostro ecco vedete rappresenta proprio un fiore ed è stato realizzato da un nostro spettatore me l'ho fatto in maniera senza che io gliel'avessi chiesto in maniera molto cordiale molto affettuosa tra l'altro appunto tutti questi disegni io poi li ho stampati li ho messi là dietro in questa questa piattaforma è una sorta di tabellone è una cosa molto bella l'hanno fatti naturalmente i ragazzi mi prendo tutte le responsabilità scritto mi prendo tutte le responsabilità devi sentire un po' in colpa quindi Daniele visto che lui si prende tutte le responsabilità io ora piango e quindi Daniele io ho questo sfondo del cellulare ho lo sfondo al computer con altre fan art insomma tutto quello che mi hanno fatto in questi mesi in questo anno io sono sempre davanti questa è la casa della baraccangile perché ragazzi io prima di chiudere ciò vuoi vedere il mio primo logo del canale vediamolo aspetta che devo cercare nelle cartelle sai com'è cioè aspetta il primo questo non mi ricordo se è il primo no questo era il primo sai forse e almeno non sto vedendo niente quindi faccelo vedere aspetta aspetta galleria aspetta che forse si ok ok eccolo ora appare 10 10 secondi 10 9 8 7 6 5 4 5 oh sì ma non si vedeva bene la scritta effetti ho fatto a cazzo quando l'ho disegnato lo disegno ci ho messo 5 ore credo che non mi ricordo se questo è il primo logo sai comunque tu per tutte ste robe che fai Daniele che c'è solo vabbè non possiamo dire l'età qua su Twitch ma sembra che ne hai 30 di anni con tutti questi lavori che fai al computer tutte ste cartelle veramente proprio tipo Alessio mettiamo il messaggio io ho fatto il logo Alessio l'ho fatto io non lo so ma me l'hai fatto anche vedere so hai fatto le cose della sezione delle informazioni mi ricordo mi ricordo che hai fatto tutto tu poi sarò un moderatore pure un moderafiore un moderafiore devo moderare i fiori ma già non sei moderato tu che moderi nel canale l'ho visto io non mi modero poi questo è il loghetto c'è neanche l'altro aspetta che lo apro aspetta che apro l'altro ah vuoi un'anticipazione Daniele ah no no il primo logo del canale aspetta poi la prima roba che ho fatto aspetta come non ti frede la prima aspetta la prima cosa che ho fatto era questa cioè il primo disegno che poi del canale aspetta è questa guarda l'avevo pure disegnata guarda l'avevo pure senza bordi ah ma quindi tutte ste robe le hai fatte te ok ok non l'avevo capito ma senza la scritta era per esercitazione vedi per esercitazione come fossimo a scuola ho visto vedi senza bordi era vedi che ma in arte non vi fanno fare delle cose simili quel professore che dicevi prima ma tu che è bravo no cioè neanche sanno quel disegno la classe sinceramente cioè poi cioè sinceramente perché è stato un po' di bullismo sai com'è ma si è risolta poi quella situazione oppure no eh sì volevo parlare anche su Twitch eh mmm però Twitch poi mi mena su Twitch mi lancia le sedie capito ah sì ho paura questo è il primo logetto ah tanto aspetta io tanto posso andare a ne fare tanto tu ok l'altro loghetto del canale sai qual è tanto lo vedete aspetta lo vedete aspetta che devo ancora no ora aspetta ok condividi schermo immagina senza bambini bianchi ovviamente eccolo eh ma non si vedeva niente proprio madonna ero ero nello zaino no ma non si vede il il nome capito la scritta tizio ma tu ti metti veramente nel tuo zaino sì da me ci entri ci entri non nello zaino sì che ci entro sono piccolo questo questo logo ti dico che non lo volevo mai togliere beh perché è bello impaurito però però non c'hai sti capelli tu no io non eri ti appiattiti lisci eh sì guardate guardate la faccia impaurita ah questa è di tu la prima volta che hai visto podcast fione secondo me aspetta poi allora poi io su io ho tipo una cartella una cartella di tutta switch eh e ti posso chiedere un tuo parere su una cosa allora a proposito di questo cioè io per la prossima serie se parte a settembre vorrei cambiare il logo perché mi è venuto in mente di modificarlo un po' è presente che attualmente se te lo creo io no no ho già chi perché ho già preso accordi con power all'epoca eh che è quello appunto che mi ha fatto quella fan art che vi ho mostrato prima attualmente c'è il microfono che rappresenta appunto il podcast e c'è una bella margherita che rappresenta il fiore questo questo è il mio banner del canale vedi che c'è tipo il mio banner è questo e quale sei dei due tu nessuno eh l'anime quindi poi questa qui guarda questo sono io eh sono io è vero sì però sei inquietante in questa maniera madonna ti sei incappucciato vero sì sì posso essere mod posso essere mod posso essere mod immagine Daniele posso essere mod mamma mia poi poi questa vedi è bella aspetta che annuno la condivisione che devo cercarne ah c'era anche sai cosa c'era anche l'altra è bella perché c'era la sciarpa che era unica e che univa quelle due persone no no sai cosa c'era aspetta aspetta guarda cosa c'era perché è tutto pronto avevo sempre problemi su twitch c'era sempre le robe ora andavo alla live e tutto quando andavo ah no io poi sai cosa ho fatto nel file volevo aggiungere il colore rosso però il programma non me lo consentiva quindi guarda cosa mi hai lasciato qua io non c'ho voglia di poi ricominciare il disegno per quella cazzata ma che te ne frega e mio dio quei bordi li ho lasciati poi dopo c'era guarda questa c'era questa poi c'era questa qui è quando sono offline ah per vedere quando se vi appunto esclamativo social appaiono i miei social stiamo intervistando tizio vedi guarda ho cambiato anche link 3 cioè ho cambiato il nome dopo dopo più dopo qualche mese ho cambiato il nome c'è scritto si sono tizio vedi poi qua c'era prendetelo perché perché uno gli diceva una cazzata quindi io dicevo prendetelo no prendetelo è quello che dirà Matteo Ufo contro di te quando arriva con i carabinieri prendetelo poi c'era un mondo tizio aspetta che ci devo prendetelo no sono finiti avevo mandato il tizio dov'è ah questo è il vecchio logo di youtube del season tizio live vecchio logo questo guarda l'onda energetica onda questa è la galera del mio computer che mi sopporta ah no questa è la stream starting ma fagli vedere pure il video che mi hai fatto ce l'hai salvato ah quello là eh è specialo su telegram aspetta io te l'avevo mandato a te giusto o su telegram anche a te l'ho mandato sì sì in privato a me l'hai mandato ma io l'avevo mandato in pubblico mi so mi ricordo eh ma poi l'ho tolto se ti ricordi me l'hai mandato in privato ok forse l'ho salvato io basta tu non me l'hai mandato in privato aspetta aspetta ora controllo praticamente è il video che mi ha fatto lui come fan art diciamo per Fiore Kids e poi l'ho mostrato infatti su Fiore Kids eh no devo andarlo a prendere sai ok devo andare su media sento tutti i media di questo canale ce ne sono in pratica quel video parte intanto è una scena di Dragon Ball da cosa parte quel video fammi pensare un attimo da cosa parte ah quando io dicevo che appunto lo dico sempre su Fiore Kids che si può partecipare al tavolo perché chi manda qualcosa poi può vedere anche le puntate speciali che sono riservate sono private di Fiore Kids e quindi nel video ci sono io che dico appunto questa cosa qua e poi lui che mi risponde preparati eh non devi anticipare però Daniele eccolo ecco l'ho trovato l'ho trovato aspetta che lo scarico così almeno lo scarico anch'io così almeno ti faccio lavorare anch'io un po' adesso Daniele fallo vedere ok scaricato non ce l'avevi manco salvato mamma mia vergognati Daniele stiamo scoprendo tutti gli altarini stasera vedi aspetta che si sta caricando si vai 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 preparati la fine carbonizzata ma sei un folle babbavia ecco posso modificare il nome aspetta vedi che si trinca così basso guarda come si rompe vabbè ok preparati a finire carbonizzata ma sei un folle Ivan cosa ne pensa lei cosa ne pensa ma basta non è che lo fai ripartire in continuazione cosa ne pensa lei ne penso che chi l'ha visto poi quella volta su Fiore Kids è morto delle risate ma proprio però ha anche detto ma chi te l'ha fatto è proprio un folle un malato perché un malato è proprio una mente assurda che appare le robe del genere preparati Dani Dani sei una roba voglio fare sentire il video originale perché posso farlo sentire eh non lo so aspetta aspetta vabbè questo è il video originale se tu non rischi ban proprio non sei contento devi sempre rischiare è su YouTube è su YouTube aspetta aspetta intanto sono le 23.12 ok mettiamo il video originale ma che ne dici Dani se fai tipo un'intervista speciale a tuo fratello così cosa tu dici ti manda a quel paese no? ah che ne so io ok condividi eh si vede? la stessa si preparati a finire carbonizzata ma sei un folle ora ti arriva ora si interroppe all'improvviso la live ti arriva l'avviso Twitch ti ha bannato perché hai mostrato non posso mostrare Goku Goku sei un folle ma te la sei preparata all'intervista per dopo se no arrivi impreparato si ce l'ho pronta ma dove ce l'hai pronta non ti ricordai va con l'orario a cui dovevi invitarla a quello là vabbè Ivan madraccio ciao Ivan ci vediamo alla prossima volta ciao bello ok state un attimo torno subito eh un attimo Ok raga, passiamo all'altro Passiamo all'altro, passiamo all'altro intervista Passiamo lì, ok entra in studio Entrano in studio anche tu Ok, abbiamo la lega anche là raga così almeno Ok, vai Ok, vai